Padre Pio ha operato un grandissimo numero di miracoli e guarigioni prodigiose. Al padre non bastava molto per riuscire a compiere quelle grandi azioni. Tutto quello che faceva era pregare di cuore, offrendo le sue pene in cambio del sollievo delle persone che si rivolgevano a lui per chiedere il suo intervento miracoloso. Accadeva anche che Padre Pio compisse miracoli a distanza, ma nonostante la sua assenza fisica, i presenti notavano sempre, e dico sempre, la presenza spirituale del padre. E il caso di cui voglio parlarvi oggi non fa eccezione. È un altro incredibile miracolo, mosso dal grande amore e dalla grande compassione che Padre Pio aveva nei confronti del prossimo. Questa volta siamo nel 1953. L'attore Carlo Campanini, figlio spirituale di Padre Pio, andava spesso a trovare il frate con le stigmati a San Giovanni Rotondo. In quell'occasione lo aveva accompagnato la sua famiglia. Ecco cosa accade. Mi fermai a conversare con Padre Pio. Con me c'erano i membri della mia famiglia. Non lontano da noi, leggermente in disparte, si teneva una ragazza. Aveva avuto più o meno 25 anni. La ragazza era affetta da una strana malattia, che più che altro era un disturbo più che una malattia. A intervalli regolari emetteva una specie di singhiozzo che terminava trasformandosi in una specie di urlo strozzato. I parenti della ragazza mi confidavano dopo che ne soffriva da anni. Aveva passato in rassegna tutti i migliori dottori, ma nessuno di questi aveva potuto fare niente per lei. La poverina soffriva. Ah, se soffriva. Se ne stava in disparte con la schiena al muro. Il suo viso lasciava trasparire una tristezza indescrivibile. Faceva di tutto per lottare contro quello strano disturbo, ma non c'era niente da fare. Il grido le scappava sempre di bocca. Lei se ne stava in silenzio, in un angolino, probabilmente era anche timidissima. La sua presenza era tradita solo da quel grido. Davvero insopportabile, devo dire, devo ammettere. Continuavamo a conversare con padre Pio, con quello strano grido che a intervalli regolari usciva in sottofondo. Ad un certo punto padre Pio si voltò verso di lei e disse, ok, basta così. Ma niente da fare. Niente riusciva a interrompere la tortura di quella povera ragazza che continuava emettere quel grido. Quello stesso giorno, più tardi, quella ragazza e la sua famiglia ripartirono per affoggia. Mentre erano sulla strada di casa, nella macchina con la quale stavano rientrando, si sentì un intenso profumo di rose e di viole. Qualcuno in auto disse, è padre Pio, è qui con noi. In quello stesso istante la ragazza, dopo anni di tortura, smise di emettere quel grido e fu completamente guarita. La famiglia era felicissima, fesse la retomarcia per tornare a ringraziare padre Pio. Però il tempo di arrivare a San Giovanni Rotondo, ormai la notte era già calata e padre Pio si era ritirato nella sua stanza. Però incrociarono il padre pellegrino, che raccontò loro cos'era accaduto mentre padre Pio se ne tornava nella sua cella. Il padre pellegrino raccontò che padre Pio stava ripensando a quella povera ragazza, dicendo, povera ragazza, mi si spezzava il cuore a vederla soffrire così, a vederla in quello stato. Poco dopo, non ci vuole molto per capire che la guarigione era avvenuta esattamente pochi istanti dopo che padre Pio aveva pronunciato quella frase. La ragazza era completamente guarita. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!